Da alcuni giorni non funzionano i semafori dell'incrocio delle vie Lido e Don Minzoni alla fine della passeggiata Busquet. Il punto è uno dei più trafficati della città. C'è il passaggio di vetture, motocicli e autobus da e verso il quartiere della Pietraia e la strada dei Due Mari e l'ingresso nella zona del Lido e delle spiagge. La presenza degli arenili e degli impianti balneari determina un flusso costante di passanti, tra cui famiglie con bambini. Occorre dunque un intervento urgente di ripristino delle segnaletiche luminose affinché si possano evitare incidenti e pericoli per l'incolumità di cittadini e turisti.